È un'acqua fusion, è molto semplice, è una lezione fondamentalmente ginnica, è un interval training in rapporto 1 a 0,5, 3 minuti cardio, un minuto e mezzo di recupero attivo dove utilizzerete un manubrio in monolaterale, ok? Il riscaldamento dura pochissimo, sono 4 minuti e mezzo. 4, 3, 5, ehi, 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 ehi. Ancora, 4, 3, 2, ehi, 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 ehi. 4, 3, 2, ragazzi, centro, fuori, centro, fuori, stop, ancora, 4, 3, 2, andiamo! 4, 3, 2, ragazzi, si va! 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 5, 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 3, 2, ragazzi, si va! 6, 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 3, 2, ragazzi, si va! 7, 3, 6, 3, 2, ragazzi, si va! 7, 2, ragazzi, si va! 8, 2, ragazzi, si va! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4! Grazie. 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 Uno, uno, dos, eh, testa, 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 testa. E' il manubrio! Come va ragazzi? Si va! Quattro! Tres! Due! Un! 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 Si va! Fais. Pa. Pa. Enfant! Pfff branca-pavri!! Dio nonno calza di più. 3, 2, 1. 4, 3, 2. Aia! 4, 5, 6. 4, 5, 6. Aia! 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 Quattro, tre, due, bua! Quattro, tre, due, bua! Manubrio, sinistra! Tento al braccialettino! Sinistra, sinistra! Quattro, tre, due, bua! Eh! Non è vero! Non è vero! Non è vero! Eh! Ancora! Tre, due, diva! Eh! Bua! Eh! 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 Ah! Ah! Via, manubri! Via, via! Come va! Si va, si va! Ancora! Tre, due, ai, 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 ai! Ancora! Quattro, tre, andiamo! Si siete! Su! Vaya! Ancora! Quattro, otto, tre, due, bua! Lo schibaldino! No! Av pentro, eito! Ve ieri! Con lo schibaldino! Tento al braccialettino, About 20? Torna! 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 Qua! Simone fuori! Fuori! Quattro, tre, due, qua! Quattro, tre, siete pronti? Siamo! Tre, due, chiama! Qua! 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 Casa grande non vale! Qua! Si va! Uno, due, tre! Uno, due, tre! Uno, due, tre! Uno, due! Uno, due, tre! Destra! Destra! Mi piace? No! C'è colpa di Marasura! Ehi! Mi piace? No! Quattro! E' colpa sua! Ehi! Ehi! Mi piace? Ehi! Era con sesso! Ehi! 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 Sì! Due manubri! Sì! 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 6 ancora 3 2 ti piace? no se non vale hai ragione io sarei già andato a casa ci siete? si va si va voa voa oiii si va voa hai ragione che bravi oiii si va dietro vua hai 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 quattro quattro tre ci siete quattro si va hai 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 ti hai 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 ti hai Ehi! 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 Yama! Ehi! Ehi! Non mi piace! Andiamo! Grazie! Grazie!